... per rottocciare anche la Svizzera. Tanto attenzione, azione di contrattacco da parte di Inzaghi... ... azione di contrattacco da parte di Inzaghi... ... che evita il portiere... ... attenzione, azione di contrattacco da parte di Inzaghi... ... che evita il portiere Cech finalmente riesce ad ottenere il tanto atteso sigillo personale... Ciao Simo, come stai? Scusa, non ho tanto tempo che sto preparando la stagione. Volevo solo dirti che ti ho spedito una cosa, dovrebbe arrivarti a breve. Grande Simo! La